Siamo con l'Avvocato Gina Lupo, candidata al Consiglio Comunale di Taranto, a sostegno del candidato sindaco Piero Bitetti, con la lista Taranto Bene Comune. Oggi vogliamo occuparci di sociale e proprio vogliamo affrontare questa tematica cara all'Avvocato Lupo, perché è materia della sua attività professionale. Queste tematiche incidono anche in un tessuto sociale particolarmente sofferente come quello tarantino. Parliamo di questa separazione considerando anche gli aspetti giuridici e non solo, che poi vanno anche a gravare sui più piccoli. Beh sì, gli argomenti di cui discuteremo nel pomeriggio presso il mio comitato guardano soprattutto i bambini, perché spesso i genitori quando sono in piena crisi coniugale non pensano ai loro figli e alla sofferenza magari dei loro figli. I bambini poi sembrano assenti, sembrano distratti, in realtà ascoltano tutto. Quindi con l'aiuto della dottoressa Battiato abbiamo pensato di chiacchierare un po' con alcune persone che hanno attraversato, stanno attraversando questa problematica, perché spesso ci chiedono come parlarne ai loro figli, come affrontare davanti ai loro figli il problema della loro separazione. Ma poi di qui siamo disponibili ad ascoltarli sotto, a rispondere a qualunque domanda che loro ci possano fare nei confronti appunto delle problematiche della famiglia in genere. C'è stato anche chi mi ha detto per esempio di affrontare il problema della balena blu, quella specie di lavaggio del cervello che parte dalla Russia e che coinvolge i ragazzi addirittura portandoli al suicidio. Quindi come vedete gli argomenti possono essere tanti, prendendo spunto magari dalla separazione genitoriale. In questa ottica anche il ruolo che gli enti locali e non solo dovrebbero svolgere a sostegno della genitorialità e a sostegno dei minori, perché poi le istituzioni in queste situazioni che sembrano soltanto afferenti alla sfera privatistica, alla fine non è sfera privatistica perché riguarda la società. Aiutare un bambino oggi significa aiutare il futuro adulto del domani, quindi eliminare il disagio di un bambino significa aiutarlo a crescere, creare un uomo o una donna più matura e responsabile, soprattutto che sappiano affrontare le difficoltà. Non mi stanco mai di richiamare i genitori a una maggiore attenzione nei confronti dei loro figli, ma questo è il tema del mio lavoro anche politico. Anche nel programma di Piero Bitetti c'è una parte a cui ho collaborato che parla proprio di sostegno alla genitorialità Luigi, con la creazione di punti di mediazione familiare che servono proprio ad abbassare il conflitto coniugale, che possono far rimettere in colloquio, in comunicazione due genitori che probabilmente per il conflitto parlano linguaggi diversi. Ha proprio centrato il programma di Piero Bitetti in questo, quindi un aiuto ai minori per salvarli dal cyberbullismo, bullismo, dalle loro problematiche, ma anche un richiamo ai genitori di essere più responsabili, di acquisire nuovamente, di riprendere nuovamente il loro ruolo genitoriale.